Siamo qui a Venezia in una giornata particolare, una giornata difficile ancora di acqua alta per portare la solidarietà di Fratelli d'Italia, garantire l'impegno massimo del nostro gruppo al Parlamento Europeo finché vengano subito stanziati il Fondo di Solidarietà Europeo per gli interventi necessari. Ma siamo qui anche per dire che Venezia deve essere tutelata ma non soltanto nel suo patrimonio ambientale, nel suo patrimonio monumentale. Venezia non può esistere senza i veneziani, allora noi vogliamo una legge speciale che possa far ripartire questa città, fermare lo scopolamento, garantire la possibilità di esercitare ancora attività economiche e commerciali in questa città e coinvolgere l'intera area metropolitana in una nuova vita per Venezia. È un patrimonio che non possiamo e non vogliamo perdere.